Una vittoria sofferta ma conquistata con concentrazione e coraggio. La trasferta a Reggio Calabria dell'amatori Catania Rugby ha dato prova della determinazione dei biancorossi a centrare l'obiettivo promozione. Il rugby Reggio Calabria è un avversario ostile, ma le scelte a sorpresa di coach Ezio Vittorio hanno dato ragione alla strategia portata in campo dai catanesi. L'inizio gara è stato dominato dall'amatori Catania, subito spintosi in audace avanzamento verso la zona meta. Il Reggio Calabria è riuscito a trovare spazio a causa di un fallo degli etnei e da una serie di occasioni mancate dai catanesi, come ad esempio il clamoroso calcio di Borina che non ha preso il centro dei pali. Errori ed occasioni mancate hanno rallentato il ritmo di gara. Tush poco sfruttate e poca ambizione verso la meta hanno appesantito il gioco da parte di entrambe le squadre. In questa atmosfera poco concitata è arrivata improvvisamente la prima meta calabrese, favorita dalla disattenzione dei biancorossi. Nel finale del primo tempo Borina ha acceso la gara con il dinamismo che lo contraddistingue. Essa Puppo e Mazzoleni hanno potuto sfiorare la meta. Sulla mischia i catanesi hanno dominato per tutta la gara con una pressione inarrestabile, concretizzata dalla meta perfetta di Vasta che ha fissato il primo tempo sull'otto ad otto. Ad inizio ripresa Vasta ha proseguito lo spettacolo. Tush vinta, scatto bruciante fuori mischia e fulmine a conquista della meta, coronata dal centro dei pali ad opera di Borina. L'avanzata dell'amatori ha continuato ad entusiasmare il pubblico grazie all'intercetto perfetto di Cosentino che con forza ed eleganza ha viaggiato per la terza meta. A questo punto i padroni di casa hanno deciso di rispondere all'offensive etnea, prima bucando la difesa biancorossa con Inbalzano e poi con la trasformazione di Mitchell che ha condotto al pareggio temporaneo per 20-20. Ma l'amatori Catania ha risposto prontamente spendendo gli ultimi minuti scatenando sulla linea dei 5 metri una pressione totale. I catanesi hanno operato uno sfondamento sull'esterno grazie a Scuderi che ha potuto realizzare una meta con relativo bonus, il primo della stagione per gli etnei. La vittoria dell'amatori, sofferta ma conquistata, conferma l'imbattibilità della squadra catanese che persegue inarrestabile l'obiettivo promozione, dimostrando di saper dominare anche gli avversari più ostili determinando il bello e il cattivo tempo sul campo.